Nel pasto, l'aragonista di Palmariggi rappresenta un lavoro importante difensivo, non solo per Casale San Nicola, l'antico villaggio di Palmariggi, ma anche per tutto il territorio dell'Ottrante. Il castello fu fuori da l'aragonista nel XV secolo. Inizialmente, aveva un luogo quadrato, con 4 torri di defensa, 3 di queste con una base circolare e solo una base circolare. Infatti, oggi, solo due delle torri circolari rimane stanno, connessi con l'unico con una piazza di parte di parte. Il castello fu fuori da una motta, che potrebbe essere crossata solo da un'est-west-orientata. Questa motta fu fuori da 1956. In 1485, immediatamente dopo la tragica sacking di Ottrante, a la mano dei Saracens, il castello fu fuori completamente ri-built e fuori da un punto di vista militare. Il castello fu fuori da Alfonso di Aragon, che personale avversò la riconstruzione e la struttura delle linee di defensa di Palmariggi, che fu stabilito nelle ruine della città di San Nicola. Il castello fu modificato per la seconda volta, nel 1724, da Vernazza, quando parte delle città e parte della piazza di piazza sono trasformate dalla construzione delle residenze della famiglia dove oggi troviamo la città. L'unitio fuori da un'est-retta di piazza di Lentrante maggiore, che sarebbe un valore troppo gravemente vaffine sia né. L'unitio fuori da un'est-retta di piazza. E' ancora un'est-retta di un'est-retta di ins-retta di un'est-retta di un'est-retta di un'est-retta. Grazie per la visione! Grazie a tutti!